Messaggio della Vergine Maria, dato a Mario D'Ignazio il 30 dicembre 2023. La Vergine Maria appare vestita di bianco, e dice. Cari figli, aprite i cuori a Gesù Redentore. Confidate in Lui solo. Affidatevi a Lui. Lodate, pregate, cantate a Lui Sole Eterno. Lui è il Cristo, l'unto di Dio, l'Inviato. Pregate il Rosario ogni giorno e ravvedetevi da vie inique. È tempo di ravvedersi, e credere davvero. Siate miei e di Gesù, Re dei Re, Signore dei Signori. Gloria al Suo nome Santo. Gesù è tutto per le anime vostre, per voi del piccolo resto. Siete in tempi bui. Siete circondati da demoni, non mollate. Avanti, non retrocedete. Pietà invocate per tutti. Pietà e salvezza eterna. Pregate, pregate, pregate. Dite Maranatà, vieni Signore Gesù. Osanna, alleluia. Glorificate il Padre Altissimo. Gesù è nato per redimervi dal peccato, da Satana, dal mondo corrotto e corruttore. Rialzatevi dal vostro stato di peccato. Liberatevi dal torpore, dalla confusione, dallo spirito del mondo pagano e ateo, materialista. Vi amo. Voi del piccolo resto cattolico, non seguite l'impostura satanica di Roma pagana, e la sinagoga demoniaca dei farisei e massoni. Non seguite la falsa chiesa delle tenebre. Allontanatevi da essa velocemente. Shalom figli miei. Conto solo sul piccolo gregge ora. Seguitemi sempre, seguitemi con gioia. Il piccolo resto ora è la vera chiesa. E non ha niente a che vedere con la falsa chiesa mondana e pagana, guidata da Satana e dai suoi militi. Satana tenterà molti. Cercherà di impossessarsi dei miei figli e strumenti. Satana tenterà e deraglierà molti. Forza, figli diletti. Forza. Forza. Autore dei sovrapposti